Buongiorno, questo video per invitarvi al famoso e importantissimo evento di finanza Investing Roma che si terrà nella capitale il prossimo 6 ottobre, giornata nella quale nelle 6 sale didattiche oltre 70 relatori più importanti professionisti nel mondo del trading e degli investimenti si alterneranno illustrando le loro strategie, i loro argomenti e le varie tematiche di investimento. Anch'io ho l'onore di essere relatore a Investing Roma con ben due convegni, il primo dalle 11 alle 13 in sala trading dove insieme ad altri illustri colleghi faremo trading dal vivo traendo spunto dal mercato e dalle occasioni di trading che il mercato ci potrà dare e invece un secondo speech nel pomeriggio dalle 17 alle 18 quasi in chiusura dove parlerò invece da solo dei portafogli lezzi a gestione passiva dove cercherò attraverso tutta una serie di analisi statistiche di dimostrare la convenienza di questi portafogli di investimento perché questo è l'argomento di cui si parla investimento non trading di lungo termine che sono sempre stati adottati ormai da diversi decenni da parte dei guru di Wall Street che possono essere replicati anche da noi anche adesso in Italia sebbene diciamo l'argomento sia relativamente recente possono essere replicati con l'acquisto di semplici e convenienti etf e quindi ti aspetto vi aspetto venerdì 6 ottobre a Roma a Roma eh congressi Fontana di Trevi in piazza della pilota numero 4 proprio a due passi dalla Fontana di Trevi in pieno centro all'evento Investing Roma che quest'anno eh sembra essere da quanto vedo una edizione da record sia per numero dei relatori sia per saldi dati che sia anche per eh persone che si sono già prescritte per partecipare quindi ti invito caldamente a fare un saldo nella capitale che è sempre una città la più bella d'Italia per oltretutto imparare e cose nuove e molto interessanti quindi ti aspetto a presto a presto a presto a presto a presto a presto